Siamo nel 2045 in un orfanotrofio gestito da una governante amorevole con dei dolci bambini felici numerati. Cristo non finirà bene! Tre protagonisti, Emma, Ray, Norman. Ciao bambina, dove vai? Ciao monetizzazione, dove vai? Ok, che sta succedendo? In pratica l'orfanotrofio è un campo di allevamento, la merce sono il cervello dei bambini e gli acquirenti dei demoni che si sospetta governino il mondo. Bene, Emma e Norman pensano bene di sbignarsela, ma la bambina è buona e cara e vuole salvare tutti i cadaveri e i bambini. Norman inizialmente non è d'accordo, ma ehi, Emma è pur sempre vaginomunita e per lei questo è altro. La seguente battuta è stata costruita senza tenere conto dell'età dei protagonisti. Quindi sì, è una battuta di me. Si aggiunge anche lei al piano di fuga che si scopre essere già a conoscenza dei fatti. Perché? Perché sì, non rompe ti codioni. E trattiremo l'incredibile di salviamo tutti, ma non si può fare, ma lei ha la figa. Qualcuno pensa ai bambini, sì, ma siamo in troppi e ci scoprono, ma lei ha la figa. Conclusione? Facciamo come diciamo.